Buongiorno a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati. Abbiamo sempre detto in queste ultime settimane che il Milan è fortemente interessato ad acquistare un difensore centrale. Difensore centrale che è sfumato un po' negli ultimi giorni di calcio mercato nel mercato estivo, perché il Milan ha provato a trattare a lungo Milenkovic, poi ha trattato Pezzella, ha trattato Simacan, ha trattato Ayer, ma sono tutti nomi che in qualche modo, per un modo o nell'altro, non sono potuti arrivare in rosso-nero. E quindi il Milan, insieme attraverso i suoi dirigenti, l'area tecnica, attraverso Paolo Maldini e Frederic Massara, starebbero visionando nuovi prospetti da tenere in considerazione, da tenere in forte considerazione per rinforzare il reparto difensivo. Un reparto difensivo che necessita di interventi, perché ultimamente, anche a seguito della positività del coronavirus, prima di Duarte e adesso di Gabbia, il Milan è molto rimaneggiato. E quindi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe fortemente interessato a Lovato. Matteo Lovato, che è uno dei giocatori di proprietà dell'Elas Verona, in cui si sta mettendo in grande mostra in queste prime giornate di campionato. Pensate che il difensore è arrivato all'Elas Verona prelevato dal Padova, in squadra di Serie C, e l'Elas Verona ha investito per questo ragazzo del 2000 una cifra intorno a un milione di euro. E, grazie alle prestazioni di questo ragazzo, sono tante le big di Serie A, tra cui la Juventus e la Roma, interessate fortemente al ragazzo. Il Milan avrebbe già avuto un approccio con la dirigenza dell'Elas Verona, col presidente Setti, il quale valuta il calciatore già circa 15 milioni di euro. Ma questa cifra, che sembra già elevata, piuttosto elevata per un ragazzo del 2000, che per il momento ha dimostrato di avere delle buone qualità, ma ha fatto solo 4-5 partite in Serie A. Però è una cifra che sicuramente è destinata a salire, vista le qualità, visto il rendimento che il ragazzo sta mettendo in campo in questa prima esperienza in Serie A. Adesso conosciamo un pochino meglio questo ragazzo insieme, per capire perché può essere un acquisto importante per il Milan del futuro. Intanto Paolo Maldini ha sempre ribadito l'importanza di avere uno spogliatoio di italiani, che conoscano che cos'è il Milan, l'importanza del club, che conoscano il campionato, il ritmo, che siano cresciuti con un certo modo di giocare a calcio. Matteo Lovato è un ragazzo italiano, appunto, è un ragazzo che ha un grande fisico, ha alto 1,88 e pesa 80 kg, è un giocatore veloce, un giocatore dinamico, un giocatore però molto caparbio e molto forte in marcatura. È un giocatore che è forte fisicamente, ma è allo stesso tempo molto abile tecnicamente, e questo ha impressionato l'area tecnica rosso-nero. È un giocatore che è cresciuto nel Padova e ha militato anche nel Genoa per due stagioni, dal 2016 al 2018, per poi rientrare a Padova nel 2018 e 2020, dove ha fatto due stagioni in cui ha totalizzato 18 presenze. Dal 2020 è arrivato all'Elas Verona, su grande intuizione del direttore sportivo, e adesso sta facendo le fortune della squadra veronese. È un giocatore che interessa il Milan perché è duttile, può giocare anche all'occorrenza da terzino, ma soprattutto ha dimostrato di essere molto valido sia in una difesa 4 sia in una difesa 3, quindi potrebbe dare una chiave di volta, una chiave tattica in più all'allenatore, al mister Stefano Pioli. E quindi è un giocatore interessante, un giocatore che va in qualche modo visionato, monitorato costantemente, e io ho visto la partita contro la Juventus, mi ha impressionato per la sua capacità di marcatura, per la sua grinta, per la sua personalità. Personalità che non è così comune in un ragazzo del 2000, infatti è nato il 14 febbraio del 2000, è un giocatore molto giovane, ma con grande carattere, con grande personalità, e che sono un po' le caratteristiche principali, fondamentali, che, a mio modo di vedere il calcio, sono le caratteristiche che deve avere un difensore centrale. Quindi, ribadiamo, il Milan è su Matteo Lovato, sono stati i primi approcci, l'Eles Verona per il momento ha valuta ragazzo 15 milioni, vedremo se è una trattativa che potrà andare in porto. E come sempre, se vi è piaciuto questo video, vi chiediamo di mettermi piace, di condividerlo, ed iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera e attivate le notifiche per non perdervi nessun video. Ciao a tutti e Forza Milan!